Dati occupazionali preoccupanti in Abruzzo, a rimarcarlo dopo le dichiarazioni ottimistiche della CISL, è la CGL che carte alla mano mostra gli ultimi dati Istat e spiega perché l'Abruzzo non è ancora fuori dal tunnel della crisi. Noi abbiamo avuto un dato del secondo trimestre dell'Istat molto negativo, complessivamente negativo, perché noi abbiamo avuto una perdita secca rispetto al primo trimestre di circa 25.000 addetti. Abbiamo ancora una differenza storica con la vecchia occupazione di 49.000 addetti e abbiamo una crescita della disoccupazione di più 11.000, siamo al 13,6. La cassa integrazione è sostanzialmente lì, in particolare quella straordinaria, e abbiamo una situazione differenziale tra territori, cioè una situazione molto difficile nella provincia dell'Aquila, molto difficile tra i giovani, non così difficile tra le persone più anziane. Quindi i dati complessivamente sono negativi. Abbiamo un solo dato positivo, che rispetto al trimestre corrispondente dell'anno precedente abbiamo 9.000 addetti in più. Il 16 settembre si svolgerà un incontro con la Regione, al quale prenderanno parte i sindacati, tutti, e queste sono le richieste che presenteranno per garantire un piano di sviluppo sul mercato del lavoro. Noi pensiamo che il masterplan albuzzese deve avere l'idea non di un progetto, ma deve avere l'idea del lavoro complessivamente, quindi bisogna seguitare a chiedere al Governo l'implementazione di risorse finanziarie per questa battaglia. Noi pensiamo che la programmazione sia stata ormai fatta con quella europea, va implementata questa programmazione con risorse finanziarie, e questo bisogna chiedere al Governo, perché noi abbiamo bisogno di risorse fresche oggi, perché noi abbiamo bisogno di creare occupazione oggi e non in un futuro lontano.